Ricominci da tre. Ricominci da zero. Non signor, ricominci da zero. Cioè, tre cose mi sono riuscito in Davide perché ho già perduto proprio questo. Troisi è veramente un grande regista. Mi ha sempre influenzato. Totò, Peppino, Massimo, Stalleoglio, Ceppini. Chi è più bravo tra voi due? Ma crede, non esiste. Noi. Un discorso. Il cinema di Troisi per me era bello perché aveva la forma della vita. Per te l'amore che cos'è? L'amore? Esasperazione. Massimo è sempre rimasto vivo nell'immaginario collettivo perché era una grande anima e un grande artista. Ma quanti siete? Uno. I sono in casa e sono uscendo. I gesti di Massimo che gli consentono di farsi capire anche da chi non è napoletano. Facciamo questo film per riascoltarlo, rivederlo, stare con lui. Ragazzi, io vado incontro alla vita, come tutti quanti. Ragazzi, io vado incontro alla vita, come tutti quanti. Grazie.